Peter Pan, di D'Urso Fabio, in piazza Risorgimento 20 e 21 a Catania, è lieta di invitarvi presso i suoi locali per proporvi tutte le novità di questo Natale. Peter Pan, specialista del mondo dei giocattoli da oltre 40 anni, ha preparato per i suoi clienti una vasta selezione di tutti i giocattoli delle migliori marche a prezzi vantaggiosissimi. Peter Pan, vi offre un vasto assortimento di biciclette, moto e macchine elettriche per bambini, telefono 095 45 46 93.